Con Stefano Moretti torniamo sul riordino delle province, un argomento molto discusso in questi giorni. Ieri sera il Consiglio regionale ha votato per la soppressione di tutte e quattro le province, però non prendendo una decisione definitiva perché a quanto pare la palla è stata rimbalzata al governo. Io avrei preferito che venisse presa una decisione concreta con l'abolizione, con l'accorpamento di due province, creando una provincia costiera di Pescara perché non possiamo sottrarre a Pescara un ruolo chiave perché è la città che economicamente traina tutto l'Abruzzo e poi per quanto riguarda l'aria interna la provincia dell'Aquila. Quindi secondo me sono le scelte più logiche e migliori. Poi è necessario arrivare il prima possibile all'accorpamento di questi enti perché come possiamo benissimo vedere ormai da anni sono enti inutili perché producono solo debiti e servono solo ai politici per crearsi quel carrozzone di clientelismo che ci ha portato al disastro che stiamo vivendo in questi anni. Pertanto dobbiamo metterci in testa che il passo che bisogna fare da quei prossimi vent'anni, che vent'anni è il termine di scadenza del fiscal compact, quindi i 45 miliardi di euro che ogni anno lo Stato italiano deve abbattere il debito pubblico, quindi da quei prossimi vent'anni bisogna dare un taglio sostanziale a tutta la spesa pubblica e riorganizzare completamente la macchina dello Stato attraverso delle riforme che innanzitutto comincino a snellire la burocrazia. Poi diano delle risposte concrete alle imprese che attualmente non sono competitive sul piano mondiale, quindi sulla globalizzazione che ormai ha investito tutti. Le imprese italiane non sono assolutamente competitive per tutta una serie di motivazioni. Bisogna un attimino rivedere completamente la macchina dello Stato e riorganizzarla in funzione per dare una maggiore competitività alle nostre imprese e uscire fuori da questa crisi che non è una crisi di spread o una crisi finanziaria, ma è una crisi del sistema nostro industriale.